Alka Selection, 30 minuti di rock dedicati agli artisti dell'etichetta Alka Record Label. Ma che cazzo ci faccio a Berlino? Non è successo niente, non mi ha dato niente. Ma che cazzo ci faccio a Berlino? Mi son perso negli occhi di una falsa metà. Ho mandato a fanculo mia madre per te, per te. Ho cancellato il ricordo del mondo per te, per te. Ti sono fatto curare la mente per te, per te. Ti sono distrutto i fianchi e le ossa per te, per te. Sono nudo e do l'inverno addosso, sono nudo e do l'inverno addosso. Ho le vertigine e ti crollo addosso, ho le vertigine e ti crollo addosso. La mia bocca è un cratere e scoppia, la mia bocca è un cratere e scoppia. Sono nudo e do l'inverno addosso, sono nudo e do l'inverno addosso. Ho le vertigine e ti crollo addosso, ho le vertigine e ti crollo addosso. Sono nudo e do l'inverno addosso, sono nudo e do l'inverno addosso. Ho le vertigine e ti crollo addosso, ho le vertigine e ti crollo addosso. Dimmi che cazzo ci faccio a Berlino, dimmi. 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 Ciao, noi siamo i Magar vogliamo ringraziarvi e salutarvi calorosamente per averci ascoltato su queste frequenze nella mia terra di conflitti sono una stanza senza buchi dietro una tenda di ricordi una vertigine di sogni davanti a muro a sguardo fisso e nello stomaco animali seguo una flotta di menzogne per fare battere forte il cuore dentro la testa le mie orge 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 mi ascolto immobile confuso e perplesso e sopra ogni cosa rimango di ghiaccio e poi io ascolto ancora dentro la testa le mie orge 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 ... la testa le mie oge dentro la testa le mie oge slash car Grazie a tutti Grazie a tutti Alka Selection 30 minuti di rock dedicati agli artisti dell'etichetta Alka Record Label Ciao, noi siamo i God of the Basement una band alternative rock di Firenze la band è composta da Tommaso alla voce Enrico alla chitarra Rebecca al basso Stefano alla chitarra e Alessia alla batteria il progetto è nato con la voglia di fare musica che ci diverte e soprattutto che diverte l'ascoltatore le influenze sono tantissime si va da rock and roll high beat più hip hop passando per groove propriamente funky ma quello che accomuna tutto possiamo dire essere la forma canzone nel senso pop del termine in cui racchiudiamo tutte le nostre ispirazioni il nostro album di debutto intitolato God of the Basement è promosso e distribuito da Alka Record Label ed è stato anticipato dal singolo With a Light Source il disco è composto da 13 brani che rappresentano un po' un viaggio attraverso il nostro immaginario musicale e visivo questo album è quello che siamo e quindi siamo fieri di potervelo presentare lo trovate disponibile dal 19 ottobre su tutte le principali piattaforme musicali oppure potete ordinare la vostra copia sul sito AlkaRecordLabel.com inoltre ci potete ovviamente trovare su Facebook, Instagram, Youtube al nome God of the Basement oppure ci potete contattare sul nostro sito www.godofthebasement.com ciao a tutti 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 alka alka selection ciao a tutti 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 a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti